E ritrovati in un altro video ricchissimo di informazioni, di contenuti assolutamente esclusivi Se non mi conoscete io sono Mattia e insieme alla mia ragazza NIF, madrelingua inglese abbiamo creato il videocorso ricchissimo di informazioni che serve per tutte quelle persone che non sono capaci a parlare in inglese, che non sono capaci a scrivere in inglese e quindi devono rendersi capaci attraverso il metodo che io vi sto vendendo che io sto cercando di insegnarvi, che sto cercando di educare appunto tutte queste persone che devono necessariamente rendersi capaci perché siamo nel 2019 e nel 2020 quindi se non sapete parlare l'inglese avete dei problemi sia a livello lavorativo, sia a livello di studio, sia a livello di relazioni eccetera 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 quindi quest'oggi parliamo del metodo, del modo più veloce che non necessariamente è il più efficace più avanti vi spiegherò appunto la differenza tra queste due paroline per imparare l'inglese allora il metodo più veloce per imparare l'inglese, siete pronti? è quello di andare a vivere a Londra fate un anno sabbatico se siete giovani, se avete una famiglia, se siete degli adulti se lavorate, questa cosa ovviamente è impossibile quindi il modo più veloce ed efficace per studiare l'inglese è appunto andare a Londra un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni, dieci anni quello che è quindi appunto cambiate il vostro ambiente il vostro ambiente comincia a parlarvi in inglese quindi voi di conseguenza risponderete in inglese ok? questo è un po' il principio cardine su cui si fa riferimento non dico il mio metodo ma il metodo che hanno utilizzato tutte le persone che si sono rese capaci quindi anch'io quindi se siete dei ragazzi vi consiglio assolutamente di andare all'estero fare un'esperienza anche di vita proprio ne acquisirete di fiducia in voi stessi ne acquisirete tantissimo io per esempio vivo qui a Madrid non è che sto facendo questo video dalla cameretta nella casa dei miei genitori che è nel paesino sperduto in Italia nel quale vivevo tre anni fa sto facendo questo video a Madrid e vi sto dicendo da Madrid e vi sto dicendo appunto di fare un'esperienza all'estero perché ne gioverà davvero tantissimo ne gioverete tantissimo la vostra persona cambierà radicalmente ok? quindi questo qui è il metodo più veloce e più efficace per imparare bene una volta e per tutte l'inglese ovviamente ovviamente la maggior parte delle persone non c'è voglia di andare all'estero non c'è le possibilità questo non è vero perché tutti hanno le possibilità di per esempio io ho fatto l'università qui a Madrid pubblica perché non avevo i soldi per la privata quindi non c'è scusa per nessuno in realtà non ci avete voglia principalmente questa è una grande scusa ok? quindi molti di voi magari sono anche degli adulti avete una famiglia avete dei figli avete una moglie un marito ovviamente non potete andare a vivere all'estero ci sono anche dei problemi vostri anche economici eccetera eccetera quindi qual è il metodo più efficace più veloce che potete applicare sì da subito ok? senza andare all'estero senza andare di qua senza andare di là ok? il metodo più efficace e più veloce riguarda tutte quelle azioni quotidiane quindi il cambiamento delle vostre abitudini ok? le abitudini sono molto importanti perché determineranno quelli che sono i vostri risultati i risultati che state ottenendo adesso qualsiasi essi siano ok? non solamente riguardanti l'apprendimento della lingua inglese sono determinati dalle vostre abitudini quindi per esempio voi avete una forma fisica pessima è perché seguite quotidianamente una pessima dieta perché fate del pessimo esercizio fisico per esempio ok? quindi il vostro livello di inglese è pessimo poiché voi vi esercitate poco perché voi parlate poco inglese perché voi ascoltate poche cose in inglese pochi suoni in inglese perché voi conoscete poche persone a madrelingua inglese magari anche nessuno perché voi vi impegnate poco perché voi siete disposti a spendere poca energia a spendere pochi soldi e quindi vedete le vostre abitudini quotidiane la vostra attitudine la vostra mentalità è quello che determinerà i vostri risultati quindi se adesso avete dei risultati che sono pessimi dovete semplicemente cambiare queste cose ok? ed è davvero le abitudini sono una cosa fondamentale fondamentale cioè è quello che determinerà davvero il 99% dei vostri risultati questo in tutte le cose io vi specializzo appunto sull'insegnamento della lingua inglese cioè diciamo che io mi insegno il mindset poi appunto c'è la mia ragazza madrelingua inglese che lei vi spiega l'inglese vero e proprio però diciamo che la strategia, l'approccio, il metodo è una cioè è la cosa diciamo più importante di tutto quindi abbiamo detto che il metodo più efficace cioè più veloce per imparare l'inglese è quello che possiamo fare da soli quello che possiamo fare da soli vivendo in Italia io ho imparato l'inglese vivendo in Spagna quindi davvero non c'è scusa per nessuno quindi la domanda da porci è che ho già fatto io mi sono già posto questa domanda mi sono già dato una risposta e ho già fatto queste cose quindi semplicemente ve le sto riportando cosa potete fare voi da soli? numero uno la cosa numero uno ascoltare ascoltare qualsiasi cosa in lingua inglese anche se non la capite ascoltate quindi film guardate i film con i sottotitoli podcast radio canzoni traducete tutte le canzoni che avete sul vostro cellulare quindi in inglese ovviamente qualsiasi cosa dovete ascoltarla in lingua inglese volete imparare l'inglese smettetela di ascoltare cosa in italiano i film d'oggi in poi guardate solo in inglese ascoltate solo ed esclusivamente canzoni in inglese a me piacerebbe imparare lo spagnolo imparare cioè aver imparato lo spagnolo aver imparato l'inglese ascoltando cosa in italiano non è possibile voi dovete modificare il vostro ambiente perché altrimenti non ce la farete mai è impossibile ok quindi ascoltare questo è il primo consiglio che non è un consiglio ma è un obbligo ok lo spiego benissimo nel videocorso ok poi la seconda cosa che potete fare è leggere ma non leggere i libri non leggere i libri accademici non leggere la grammatica no leggere le paroline che trovate nella vostra quotidianità quindi per esempio nelle pubblicità per esempio potete leggere i sottotitoli del film potete leggere gli audiolibri quindi leggere appunto un libro però mentre lo ascoltate perché se voi leggete solamente voi non sapete nulla di quella parola lì non sapete neanche se non avete un'immagine mentale di quello che state leggendo ok e non va assolutamente bene ok non interpretate quello che sto dicendo ok ascoltate quello che vi sto dicendo e fate quello che appunto applicate i consigli cioè se vi dico che leggere in inglese è inutile non sto dicendo che è inutile leggere attenzione sto dicendo che è inutile leggere un libro e basta voi per esempio dovete ascoltare mentre leggete ok così avete imparato per esempio a leggere e a capire le cose poi l'altra cosa che potete fare da soli è tradurre quindi tradurre qualsiasi parola che voi non sapete qualsiasi parola che voi non riuscite a riconoscere nell'immediato praticamente tutte cioè se non siete capaci e dovete rendervi capaci per esempio io tre anni fa non ero capace infatti quando sono partito a studiare lo spagnolo e l'inglese traducevo il cento per cento delle parole che trovavo ovviamente traducendo 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 ripetendo l'azione ripetendo l'abitudine il risultato che ne deriva e appunto che mi sono reso capace questo è altre cose che potete fare cioè io vi sto dicendo queste cose che mi stanno venendo in mente perché l'ho fatta e quindi per me è molto semplice parlare di una cosa che ho già fatto ok quindi abbiamo detto parlare cioè scusate abbiamo detto ascoltare leggere tradurre tradurre parlare ok voi mi dite ormai non conosco nessuno con cui interagire in lingua inglese non è vero puoi prendere delle lezioni online con dei madrelingua ci sono dei percorsi avanzati che noi offriamo insieme a Nife ovviamente costano qualche suddino magari molti di voi non hanno i soldi da spendere magari non hanno questa non sono disposti a spendere i propri soldi per ricevere delle informazioni che sono assolutamente esclusive che nessun'altra persona vedo nel mercato italiano ovviamente ci sono pochissimi quasi nessuno in realtà può darvi queste informazioni perché poche persone sono immerse quotidianamente in un altro ambiente vivono tutti in Italia tutti i vostri professori vivono in Italia nel vostro stesso paesino cosa vi possono raccontare nulla infatti i vostri risultati parlano da soli ok quindi parlare se vivete in Italia non c'è nessuno con cui comunicare potete prendere delle lezioni con anche a poco prezzo che in realtà la qualità in realtà si paga quindi a poco prezzo avete già capito i risultati che otterrete con le madrelingua madrelingua ovviamente inglese cioè voi non dimenticatevi l'idea di imparare l'inglese con un madrelingua italiano è impossibile io sono madrelingua italiano sì ok però ho la mia ragazza madrelingua inglese non è che sono qui non è che sono l'ultimo scemo arrivato ok quindi potete per esempio parlare da soli ad alta voce come sto facendo io in questo momento in questo momento io sto parlando la telecamera ok in italiano dovessi parlare l'inglese imparerei meglio l'inglese potrei parlare in spagnolo ma parlo in italiano così possiamo capirci meglio ok quindi è così dovete fare queste cose quindi ascoltare leggere le cosine non i libri non solamente i libri leggere mentre fate anche altre azioni che congruenti alla lettura quindi guardare un film leggere i sottotitoli avere un'immagine concreta reale di quello che state leggendo e dei suoni che state ascoltando che per esempio guardate quante informazioni vi sto già dando e così imparate l'inglese quindi questi sono le cose che dovete fare per imparare l'inglese velocemente ok non c'è la soluzione non c'è il metodo c'è un insieme di azioni che portano a un risultato come si fa avere una bella forma fisica dovete andare in palestra seguire la dieta quotidianamente cucinare quotidianamente andare al supermercato a comprare la frutta fresca non c'è la verdura fresca non c'è il metodo non c'è la cremina magica non c'è l'integratore magico che vi fa dimagrire cioè vi dovete anche un po' svegliare non c'è il metodo magico che tra una settimana vi svegliate e sapete parlare benissimo l'inglese se non esistono queste cose qui se questa cosa qui me lo dice mio fratellino che ha dieci anni dico vabbè povericcia poverino no è ancora un bambino piccolino non è che riesce ad avere una come si chiama una capacità discrezionale tra le informazioni che riceve dal mondo esterno dice vabbè ci sarà un sistema che è un metodo facile semplice veloce per imparare l'inglese per far questo piuttosto che l'altro però diciamo che se voi cercate questo metodo e avete 20 anni avete 30 anni avete 40 anni avete 50 anni vi dico io vi dico io che questo metodo non esiste la soluzione una ed unica soluzione purtroppo l'essere umano cerca queste cose ed è questo motivo principale per esempio dei certificati voi pensate che il vostro problema siano i certificati che sia la soluzione unica per un problema complesso vi dico che non è così assolutamente vi stanno fottendo i soldi vi stanno fregando quando otterrete i risultati quando otterrete il certificato i risultati non arriveranno assolutamente anzi voi pensate voi credete di essere capaci guarda te lo dimostro perché è un certificato no tu devi dimostrare a me non a me però devi dimostrare a te stesso di essere capace a padroneggiare la lingua inglese nella pratica facendo un discorso una conversazione con un madrelingua inglese di 10 minuti oppure producendo in modo autonomo un testo in lingua inglese così mi dimostri di sapere l'inglese non attraverso un certificato quindi attraverso una soluzione ok non è così attenzione queste cose cioè questi concetti qui davvero devono entrarvi nella testa e dovete cominciare ad attivarsi cioè dovete cominciare ad attivare le vostre rotelline cioè far girare un po' il criceto fare ballare la scimmia ma non è che sto non vi sto offendendo perché non è colpa vostra purtroppo non è colpa vostra un po' è colpa della società colpa dei dei vostri professori che vi spiegano le regoline grammaticali vi fanno una verifica vi fanno un test a crocette vi fanno un esame di comprensione tutte queste cose qui che nella realtà poi non esistono chi se ne frega se voi non siete capaci a fare una conversazione con un madrelingua inglese o con uno straniero se non siete capaci a rispondere una telefonata e parlare con un cliente se non siete capaci a mandare un'email a un cliente o al vostro datore di lavoro per dirgli non so qualsiasi cosa se non siete capaci a fare un colloquio appunto di lavoro se non siete capaci a parlare con un professore in università i vostri certificati ve lo dico io sono inutili inutili avete perso tempo avete perso soldi e soprattutto vi siete fatti fregare cioè vi siete autopresi in giro e queste cose io non le sopporto non le sopporto è per questo motivo che io sto cercando sto cominciando a fare questi video per raccontarvi quella che è la verità perché se tutti gli altri vi vendono i certificati vengono in corsettini di inglese con un approccio tipo grammaticale però tutte queste cioè la maggior parte degli studenti la maggior parte di queste persone non ottengono i risultati concreti non i certificati sto parlando di risultati quindi di rendersi capaci vuol dire che il metodo vuol dire che questo approccio non funziona se la maggior parte degli studenti che esce dalla scuola superiore italiana e anche dall'università dopo aver studiato anni e anni in media si studia 12 13 anni di inglese nelle scuole cioè io ho studiato 12 anni l'inglese nelle scuole cioè scuole elementari media e superiore 12 anni c'è chi è anche andato all'università e qual è il risultato di aver eseguito questo metodo lo zero più assoluto non ci sono i risultati le persone non sono capaci cioè parlando di maggioranza poi c'è sempre questo 1-5% che è capace quindi analizzando quello che fa questo 1-5% ne è uscito fuori un metodo ne è uscito fuori un approccio completamente diverso che non è grammaticale i vostri amici che magari sono più bravi di voi non hanno imparato l'inglese perché hanno studiato meglio le regole grammaticali o perché chissà cosa hanno fatto no non è così io non so parlare l'inglese e lo spagnolo perché ho studiato le regole grammaticali e le ho studiate meglio ho fatto più esercizi non è così io in spagnolo non ho mai non ho mai comprato un libro di grammatica in spagnolo non ho mai studiato la grammatica spagnola ok per imparare i verbi in inglese io diciamo per esempio ultimamente si lavoro studiate alle scuole superiori ma chi se ne frega per parlare bene l'inglese non ho mai studiato i verbi irregolari a memoria per esempio i vostri professori le vostre accademie tutti gli altri vi dicono di studiare le cose a memoria non funziona così va bene studiare le coniugazioni perché non c'è una regola generale per da applicare ad ogni singolo verbo quindi va bene studiare a memoria però se poi non sapete come applicare questi verbi il loro significato il loro senso in che contesto bisogna utilizzarli questo è inutile ok cioè è inutile studiare avere uno studio mnemonico è inutile non serve non arriverete da nessuna parte infatti i risultati parlano da sé quindi il metodo più veloce per imparare una lingua devo essere sincero ovviamente andare a vivere a Londra o a Londra per dire una città inglese o in America quello che è molti di voi non sono disposti molti di voi ormai sono già anziani hanno già la loro famiglia la loro attività il loro business ovviamente lo rispetto ci mancherebbe però dico io che vivo qui a Madrid io volevo parlare lo spagnolo eccetera eccetera un giorno vi racconterò anche un po' della mia storia la maggior parte di voi diciamo tutti tutti voi non andranno mai all'estero per una serie di motivi anche vostri sociali familiari economici fondamentalmente davvero sono tutte scuse sono tutte scuse perché io sono partito sono venuto qui a Madrid senza soldi e sono entrato all'università pubblica nonostante non avessi soldi quindi vedete è una sorta di motivazione una sorta di attitudine una sorta di obiettivi di sogni da perseguire ok perché comunque le opportunità ci sono per tutti le opportunità ci sono per tutti quindi molti di voi ovviamente vogliono restare in Italia vivere in Italia fare una vita in Italia avere una famiglia in Italia avere la propria attività proprio business online piuttosto che fisico in Italia e va benissimo ovviamente lo rispetto non c'ho nessun problema su questo aspetto io mi ritengo cittadino del mondo nel senso chi se ne frega di dove vivo di dove ho la residenza cioè queste sono cose secondarie quello che conta sono le informazioni e i risultati che risultati voglio ottenere cioè perché voi volete imparare l'inglese per quale ragione e da qui e da qui si sviluppa si può cominciare a pensare un percorso alternativo che vi porterà a dei risultati concreti azioni pratiche quotidiane la quotidianità un'azione quotidiana determina il vostro risultato se io tutte le sere vado a ubriacarmi qui a Madrid in Gran Via a Opera e le opportunità ci sono cioè io tutti i giorni potrei uscire e andare in una discoteca diversa magari un bar un pub diverso una discoteca no però comunque ci siamo capiti se tutti i giorni vado a ubriacarmi cioè tra sei mesi sono distrutto cioè mi ritrovate all'ospedale mezzo morto se io invece tutte le sere mi tutte le sere mi cucino e mangio il riso in bianco con una fettina di pollo tra sei mesi mi vedete che sono un bel figurino con un bel fisico ok se io tutti i giorni tutti i giorni ora ed ora al giorno ascolto parlo da solo in inglese scrivo in inglese traduco in inglese tra sei mesi divento un mostro ok però seguendo appunto il giusto metodo seguendo il giusto percorso seguendo la giusta strategia perché se no non ci arriverete mai mai non arriveranno mai i risultati cioè la speranza le preghiere le robe non funzionano non esistono queste cose qui il mondo va avanti a fatti concreti e reali e ad azioni quotidiane ok non esiste niente che potete fare cioè non esiste un'azione semplice per un risultato complesso cioè per sua stessa natura imparare una lingua straniera è molto difficile cioè è un risultato è un'ambizione davvero ambiziosa ok quindi l'azione che dovete fare non è semplice cioè non imparerete l'inglese in tre mesi non imparerete l'inglese in tre giorni non imparerete l'inglese dieci minuti al giorno seguendo anche un metodo sbagliato sui libri facendo gli esercizi grammaticali con un approccio di tipo appunto grammaticale cioè non ci arriverete mai cioè ve lo posso assicurare è impossibile è davvero impossibile ma non è che sono io brutto e cattivo che vi dico queste cose è davvero così cioè è impossibile è impossibile cioè fate a meno di entrare nei miei percorsi più avanzati né comprare il videocorso ricchissimo di informazioni che io e la mia ragazza madrelingua inglese abbiamo creato cioè fate a meno di comprare queste cose assolutamente però incominciate per favore ad applicare l'intelligenza e capire questi concetti che vi cambieranno davvero la vita cioè non sono qui a prendervi in giro cioè io sono qui a dirvi cose utili perché io voglio farvi diventare i migliori perché io voglio che voi vi rendete capaci a parlare in inglese una volta per tutte ok e se io se per me sarebbe molto più semplice vendere aver fatto aver creato un corso dove prendo un libro vi spiego le regoline grammaticali vi spiego un po' di eccezioni vi spiego un po' di cagatine vi vendo un corso a 50 euro no per me sarebbe stato molto più semplice però non ho scelto di far così perché questa cosa so di per certo so in base alla mia esperienza ai miei risultati che non funziona che applicando quel metodo che applicando quel percorso che in realtà non esiste non funziona non otterrete niente quindi bisogna cercare dei percorsi alternativi quindi quest'oggi per esempio avete trovato la mia bellissima persona il mio consiglio e il mio consiglio assolutamente è quello di incominciare a guardare i miei video su youtube miei ed i nif capire quello di cui si sta parlando applicare i miei consigli ok perché adesso voi siete confusi queste cose le approfondisco ovviamente nei nostri percorsi più avanzati quindi il videocorso le coaching course eccetera eccetera voi siete confusi ed è giusto essere confusi cioè se io non sono mai entrato in una palestra non mi sono mai allenato non ho mai fatto la dieta sono ovviamente confuso non so che esercizi fare non so che chiedere informazioni non so che chiedere aiuto non so cosa fare ok ed è giusto essere confusi quindi voi per esempio non avete mai studiato tanto l'inglese non l'avete mai studiato bene e quindi non sapete come fare è giusto così no? quindi se io vi dico per esempio di guardare un film con i sottotitoli in inglese dopo 20 minuti siccome la vostra mente il vostro cervello non è abituato con quei suoni ok non ci avete capito niente lo rimettete in italiano cioè rimettete l'audio in italiano oppure spegnete il video spegnete il film eh ma così non funziona voi dovete continuare anche se non lo capite perché c'è un motivo c'è un motivo se non lo capite cioè ovviamente voi non l'avete cioè se io adesso ascolto un film in cinese ovviamente non lo capisco ma se lo guardo cento volte con i sottotitoli cercando le parole che non conosco alla centesima volta qualcosa capirò anch'io ok e ovviamente all'inizio è tutto difficile all'inizio è tutto difficile quando voi siete andati a scuola guida perché volevate prendere la patente è stato difficilissimo la prima volta che siete entrati in macchina è stato difficilissimo anzi quasi poi pensavate di non farcela e adesso e guardatevi adesso adesso potete guidare ad occhi chiusi bendati ok è assurdo se ci pensate perché per affrontare le paure dovete fare le cose fare agire nell'azione sulla base di informazioni reali spiegate da una persona che ha esperienza da una persona che sa quello che dice questa persona sono io nel vostro caso ok quindi queste sono le cose che dovete fare queste sono le cose che dovete fare ok se volete imparare bene l'inglese una volta per tutte questo video è importantissimo io vi consiglio di riguardarlo perché perché voi magari avete saltato qualche passaggio perché voi magari avete interpretato sulla base di informazioni preesistenti che dovete modificare ok quindi per esempio se voi vi faccio proprio un esempio cioè per esempio la scuola dell'obbligo italiana spagnola tedesca tutte le scuole dell'obbligo per imparare una lingua straniera l'inglese voi seguite un libro di testo quindi voi pensate non si sa sulla base di quali informazioni non si sa sulla base di quali risultati di che voi un giorno imparerete l'inglese perché farete perché farete tanti esercizi di grammatica sui libri carta e penna cioè questa cosa è assurda non si studia così una lingua straniera cioè voi non avete imparato l'italiano perché avete letto tanti libri perché avete fatto tanti esercizi di grammatica cioè voi per esempio sapete che gli inglesi non studiano la grammatica a scuola ma la studiano perché è semplice cosa gli serve studiare la grammatica voi la grammatica in realtà la capite attraverso gli esempi quindi partendo dagli esempi si è estrapolata quella che è la grammatica e attraverso la grammatica si perfezionano il sapere che è già diciamo preesistente che avete già messo nella vostra testolina cioè voi vi riempite di nuovi suoni di nuove informazioni eccetera eccetera poi attraverso la grammatica perfezionate quello che avete già dentro ma se voi dentro non avete nulla e cercate di studiare la grammatica voi la grammatica non la capite perché? perché la capite attraverso gli esempi che si suppone che sono già dentro di voi che l'ambiente esterno vi ha già trasmesso questa cosa è quello che succede con i bambini ok? quindi i bambini prima di andare a scuola sanno già a parlare l'italiano sanno già a parlare l'inglese sanno già a parlare lo spagnolo questo perché? perché vabbè loro hanno anche un senso di urgenza per rispondere al mondo esterno un adulto non c'ha questa cosa per esempio faccio proprio un esempio quando consegnavo le pizze qui a Madrid perché ho fatto anche lavori di merda per pagarmi i miei studi qui a Madrid quando consegnavo le pizze mi aveva fermato la polizia che io ero in motorino ero appena arrivato qui a Madrid da qualche settimana me lo ricordo bene e non sapevo parlare benissimo lo spagnolo ok? e mi ha fermato la polizia che io in quel momento lì avevo un grandissimo senso di urgenza perché allora ero passato col rosso avevo attraversato la gran via a sinistra in una zona pedonale e avevo la patente italiana quando è legale ok? però se tu sei impadronato qui a Madrid devi avere il carnet de conducir quindi la patente di avere la patente spagnola che io non ce l'avevo perché ero appena arrivato e quindi diciamo che quella nottata lì mi avrebbero potuto farmi un culo così e lasciam perdere le conseguenze ma in quel momento lì c'è devi rispondere in spagnolo non c'è mica tempo da perdere non c'è no? aspetta tiro fuori il traduttore vediamo cosa succede no no tu devi capire rispondere ecco questo è il senso di urgenza che voi in realtà dovete avere cioè se voi volete ampliare il vostro business all'estero oppure volete andare a lavorare all'estero volete fare delle robe entrare in università all'estero cioè voi dovreste avere un senso di urgenza che è allucinante perché ci metterete tantissimo tempo tantissima pratica tantissimo mal di testa cioè voi pensate che sia semplice per me vivere qui in Spagna parlare con la mia ragazza madrelingua inglese parlare in spagnolo perché l'ambiente esterno mi parla in spagnolo quindi io devo rispondere cioè se voi pensate che sia semplice per me no mi ricordo che io i primi periodi i primi mesi che uscivo con Nick qui a Madrid avevo un mal di testa assurdo assurdo il mal di testa che avevo me lo ricordo benissimo glielo dicevo anche lei cioè alcune volte alcune sere dicevo così in qualche modo un po' non dico cattivo però non è che sono non è che sono sempre nice quindi non è che sono sempre carino soprattutto quando sono stanco dicevo guarda Niff non ho voglia di parlare perché ho un mal di testa assurdo perché andavo a lezione in spagnolo poi lei mi parlava in inglese mi chiamava in inglese mandava i messaggi in inglese poi riuscivo con i miei amici a parlare in spagnolo poi ritornavo a casa e parlavo in inglese cioè è un casino un mal di testa della madonna e quindi non è semplice si può velocizzare questo processo sì ma con il giusto metodo ok non è che se vi impegnate di più allora raggiungerete prima il risultato non è così non è così cioè sì è così però con il giusto metodo che c'è la base si deve essere il metodo giusto cioè se voi fate una dieta che non è funzionale non dico che è sbagliata però che non è funzionale al risultato che volete ottenere anche se voi vi impegnate tantissimo quel risultato lì non arriverà mai perché non è funzione perché appunto è funzione del risultato che volete ottenere cioè dipende dal metodo dipende dalla dieta quindi dal metodo in cui si mangia si cucina eccetera eccetera ok quindi attenzione a quello che fate attenzione a chi date i vostri soldi attenzione a dove spendete le vostre energie attenzione alle informazioni che mettete nella vostra testolina attenzione a quello che fate quotidianamente perché è quello che è diciamo la causa principale dei vostri risultati che è la vostra quotidianità e ve ne accorgete anche voi non è che ci voglio io cioè non è che cioè se voi uscite tutte le sere con i vostri amici al bar quindi perdete tempo ovviamente non potete essere miliardari ok perché non avete tutto il tempo materiale di stare lì a perdere tempo con le altre persone a parlare del nulla per esempio questi sono esempi e non sto parlando di tutti voi però molti di voi fanno queste cose e quindi il risultato che ne determinerà è questo ok non è non è bello non è invidiabile non è nulla di tutto ciò quindi quindi il metodo più veloce per imparare l'inglese si basa principalmente su quello che potete fare da soli su quello che potete fare da soli ok parlando delle persone che vivono in Italia ovviamente se voi domani mattina avete un aereo di solo andata per Londra andate a Londra e buona fortuna per esempio però se voi vivete in Italia l'unica cosa che potete fare sono ascoltare tantissimo ascoltare tantissimo e leggere con una certa intelligenza non i libri leggere non i libri è un po' un paradosso però non dovete leggere i libri in realtà lo so che per voi è assurdo perché magari avete magari 30 anni che dite di che dovete che studiate l'inglese sui libri con un approccio tipo grammaticale io vi sto dicendo adesso che questa cosa non funziona ovviamente non funziona cioè non lo sono io che lo sto dicendo attenzione sono i risultati che voi avete che parlano da soli non è che sono qui a dirvi che state facendo se non avete risultati vuol dire che non siete capaci vuol dire che non sapete cosa fare ed è giusto in realtà ed è giusto non sapere cosa fare cioè se io pesassi 200 kg vuol dire che io non so come fare la dieta non so come allenarmi non so come avere una bella forma fisica perché il risultato che ho non va bene ok quindi è così quindi ascoltare leggere tradurre 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 le parole e interpretare le frasi che è molto importante questi concetti lasciamo perdere e poi l'ultima cosa parlare da soli se non ci avete di meglio parlare da soli cioè non c'è nulla di male anzi va benissimo parlare da soli cioè un cantante prima di esibirci e di un cantante prima di esibirsi su un palco cioè canta da solo in casa mille volte ok cioè per dire non è che un performance quindi se deve fare uno speech su un palco cioè si mette a parlare da solo in casa allo specchio si registra la voce se la riascolta non so cosa fa però questo è quindi non è una cosa brutta non è una cosa che le persone vi identificano come dei pazzi però in linea generale questo è quindi questo video è ricchissimo di informazioni magari guardatelo iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità sulle cose che usciranno eccetera eccetera se avete un attimino di intelligenza se avete un attimino di intelligenza pensate all'opportunità che avete grandissimo di entrare nei nostri percorsi più avanzati miei ed in i miei che adesso è impegnatissima purtroppo non può fare questi video insieme a me sempre perché lei sa le sue cose da fare qui a Madrid in realtà ho le mie cose da fare però io ho i miei tempi c'ho un po' c'ho un po' più diciamo questi sono i nostri progetti quindi abbiamo diviso dei compiti e io faccio dei video da solo quindi questo è tutto iscrivetevi al canale riguardate questo video magari fatelo vedere anche ai vostri amici o alle persone che sono intorno a voi che sono interessate a imparare l'inglese e quindi questo è bye bye adios chicos